Il mezzogiorno è l'ERP, tema del convegno promosso dalla Fiera del Levante. Vi partecipa Zellerbach, capo della missione americana per la cooperazione con l'Italia. Le previsioni del piano Marshall trovano riscontro nei progetti presentati in questa mostra. Il sitaco di Bari ringrazia l'ospite. Quasi metà della popolazione italiana, dice Zellerbach, vive di agricoltura. I problemi agricoli sono particolarmente acuti nell'Italia meridionale. La nostra parola d'ordine è produrre. È tempo di agire e non domani, tra un mese, ma subito, oggi.